Amici, amici, tutti gli anni, tutti gli anni, questi anni c'è un caldo infernale, io dico dai sul caldo si sufferà, un po' accusato, come credo che abbiate accusato anche voi, o la maggior parte di voi, è una vita un po' monotona nella mia, visto che non è che c'è una croce sul basket, nel senso che ci sono momenti per fare certe cose, ma ci sono momenti per no, quindi quest'estate basket è più vero, quasi, e il tv, mi dispiace ammettere un tv, ce la faccio qua, guarda, guardo anche tipo i documentari, no, non vabbè, quelli sulla cronaca nera, perché, ma anche le repliche di Fast & Loud, cioè anche quelle non limitate, anche le automobili, costeranno poi che ho un'altra patente, io, è dura, è monotona, e riempirci le giornate, non è facile, poi dicono uno, sta sempre col telefonino in mano, sotto le notizie sportive, spero che il Torino abbia vinto stasera, saluto il mio amico Andrea Garagnani, saluto David, saluto Alessandro Varaldi, saluto il mio amico Briga, sono un po' indeciso sul discorso andare a correre stasera, perché ieri sera ho fatto fatica, ma no, cioè fatica nel senso, ho detto qua, ci rimango secco, non so se, cioè stasera se vado, posso fare 5 km, c'ho paura, ho paura che mi ritrovo lontano da casa, morto, è un po' dura, è un po' dura, qua c'è un clima inutile, è vero che non è che all'estero è tutto bello, magari in Gran Bretagna piove sempre, in Norvegia c'è sempre la neve, a Tenerife c'è sempre vento, però qua ragazzi, cioè, mi siete mai tranquilli, eh? Comunque vado, dai, adesso faccio un altro video, perché mi va.